E appunto parlando di bond e di indebitamento passiamo appunto al slide sull'altro argomento, bond usa rendimenti in salita, alcuni bond sono arrivati addirittura al 6%, come la vedi questa cosa? Allora facciamo un attimino di, facciamo un secondo di chiarezza, incorretto dire che siano arrivati, più corretto dire che la previsione dell'ora arrivo sarà del 6%. Allora, spieghiamo un attimino, è interessante tra parentesi come il mondo del mercato obbligazionario sia sempre più entrato nei discorsi sia tra gli investitori che anche banalmente tra i colleghi, ti assicuro, che cosa è successo? Dunque, come abbiamo già definito anche la scorsa settimana, vi è un aumento progressivo dei tassi di interesse, è stato attuale delle cose, gli Stati Uniti sono a dei massi toccati, siamo al 5.5% per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse e abbiamo dei rendimenti del mercato obbligazionario davvero molto interessanti. Ci troviamo di fronte agli Stati Uniti che tra brusco e brusco possono arrivare a un 5-4.5%. Qual è la notizia nella fattispecie? TS Lombard, che per chi non la conoscesse è una società di ricerca economica, fanno analisi macroeconomiche finanziarie, anche abbastanza importanti, anche abbastanza approfondite, che hanno, a mio parere anche molto ottimisticamente, parlato di un possibile aumento da parte dei bond statunitensi a 10 anni, che arriva al 6%. Bond statunitensi che allo stato attuale delle cose, ti ricondivido un secondo lo schermo per farvi vedere un attimino, bond a 10 anni, che in questo momento sono al 4.76%. Massimo raggiunto da 5 anni a questa parte, siamo praticamente ai picchi raggiunti nel 2007 e ricordiamo tutti cosa è successo a seguito del 2007, aspetta che ti vado a riprendere year to date, ok. Ci troviamo ad un rendimento a 10 anni pari a 4.76%. Ovviamente che cosa vuol dire? Che se il rendimento sale, per forza di cose, le obbligazioni stanno scendendo, le obbligazioni attualmente in essere, perché noi ci troviamo in una situazione nella quale gli investitori continuano a volere un rendimento maggiore a parità di rischio. Nota di merito, andiamo a guardare quest'area qui, che purtroppo non vi posso zoomare, concentriamoci su quelli che sono i treasury, è interessante vedere come ci sia una inversione, la cosiddetta inversione della curva, dove paradossalmente prestare i soldi negli Stati Uniti a breve termine, quindi tre mesi, paga di più rispetto a prestarle a lungo termine. Questo è il ragionamento dell'inversione della curva, sarà interessante, ed è interessante vederlo in realtà da diverso tempo a questa parte, è una cosa che abbiamo visto da un annetto circa a questa parte leggermente di più, ed indica una possibilità di recessione anche abbastanza importante, perché gli investitori preferiscono investire più a breve periodo, perché si aspettano una contrazione economica più nel medio-lungo periodo. Però comunque quello a cui siamo arrivati allo stato attuale delle cose sono dei bond al 4,6%, da qui a dire che si arriverà effettivamente al 6% tanta roba, ma comunque plausibile. Ovviamente questo non vuol dire che il mercato azionario non si adeguerà a questo 6%, per carità, però comunque può essere interessante per molti investitori. Anche perché l'inflazione di per sé, così come la vediamo, influisce sia sul mercato obbligazionario, perché quando c'è inflazione vediamo i tassi delle cedole salire, ma ci coprono sull'inflazione, così come fa l'azionario se tende a crescere nel tempo, per cui è un po' un finto vantaggio, semplicemente il classico bilanciamento momentaneo fa due asset class. E invece per quanto riguarda quello che è il contesto italiano, prima di andare nell'ultimo argomento nel quale parleremo appunto del contesto italiano, presumi che nelle prossime emissioni ci sia effettivamente come peribondusa dei rendimenti maggiori o comunque siamo arrivati a un livello di sostenibilità massima? Allora, interessantissima la domanda e merita un approfondimento fatto bene, per cui i famigli ragionano un attimino su come strutturare il pensiero. Allora, la cosa importante che dobbiamo comprendere è che i BTP emessi non è che sono stati emessi semplicemente perché lo Stato è buono e ci vuole pagare di più per i rendimenti, assolutamente no. È legato a doppio filo con quella che è l'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Questo deve essere bene chiaro, per cui aumento, e lo vediamo con l'aumento dei conti di deposito, l'aumento dei titoli di Stato attuale, il crollo del mercato obbligazionario per tutti coloro i quali avevano le obbligazioni pre-2022, sono tutta una serie di fattori legati a doppio filo con l'aumento dei tassi della Banca Centrale Europea. Banca Centrale, che allo Stato attuale delle cose, continua il suo aumento dei tassi di interesse e non accinge a fermarsi. Ora, va detto che allo Stato attuale delle cose siamo arrivati, secondo quelle che sono le previsioni, se non al punto limite di aumento dei tassi di interesse, quantomeno siamo in netta prossimità, perché ci troviamo di fronte a dei tassi di interesse che rendono la crescita economica insostenibile. Indebitarsi per le aziende costa troppo, costa veramente molto, per cui non si indebitano. Questo limita la crescita economica e di rimando va a abbassare i prezzi e quindi a abbassare le attrazioni, che è quello che cerca la Banca Centrale. Vedere un aumento ancora maggiore dei rendimenti delle obbligazioni, presume che la Banca Centrale Europea continua ad aumentare i tassi. Quindi francamente riterrei questa situazione abbastanza complicata poi dal punto di vista azionario. Questo dal punto di vista poi della singola azione. Io parlo adesso del mercato europeo, il mercato americano ha un contesto a sé stante. Ovviamente se investite nei buoni americani ci mancherebbe altro, ma basta ricordatevi il rischio cambio. Però comunque siamo derivati a dei livelli sicuramente molto importanti. I rendimenti delle obbligazioni italiane siamo arrivati dal 5, 4, 5, in alcuni casi anche toccato il 6%. Insomma, comunque dei rendimenti di tutto rispetto. Tutto rispetto, sì. Tutto rispetto, sì.